Questa è l'unica via. Se riescono a passare, siamo tutti morti. Stanno arrivando! Quanti sono? Circa 300! Non siamo mai scappati, non lo farò ora. Dagli fuoco! Ho promesso ai miei uomini che non li avrei lasciati morire. Non combatterei con nessun altro. Il lavoro più bello che c'è. Il lavoro più bello che c'è. Gli ideali sono pacifici. La storia è violenta. Gli ideali sono pacifici.